Mister Lucarelli, bentornato a Chieti, cosa ti ha spinto a tornare a questo punto? Ormai lo sanno un po' tutti, la voglia di rimettermi in gioco di nuovo senza problemi in una piazza importante dove sono stato bene, dove abbiamo vinto un campionato due anni fa e la società mi ha voluto dare questa occasione, questa opportunità di rimettermi alla guida dei Nero Verdi io l'ho accettato molto volentieri a prescindere dalla categoria perché per me Chieti rimane sempre una piazza molto ambita a cui non si può dire di no A Chieti in questo 2.0 hai trovato una squadra completamente nuova, a che punto sta la Rosa? Siamo ancora in fase di costruzione perché quando si comincia da zero, senza quasi nessun calciatore dell'anno scorso c'è da fare tutto un lavoro di scouting per cercare i giocatori giusti, con le caratteristiche giuste che possono andare bene per il progetto che vogliamo iniziare a breve quindi ci stiamo mettendo un po' più di tempo perché completare con gli under, con gli over un campionato che fino a poco fa si pensava fosse a due gironi invece in realtà è un girone da 20 con 38 partite più la Coppa Italia si rischia di arrivare a 50, c'è bisogno di una Rosa molto ampia, molto grande e quindi le fatiche aumentano per cercare di completare in tutti i reparti e avere un numero di giocatori adeguato per affrontare una stagione veramente lunga Ecco, lunga e soprattutto con squadre di grande blasone quest'anno sarà un'eccellenza particolare possiamo dirla perché ci sono nomi in graduatoria davvero gettonati Cosa ne pensa Mister Lucarelli di questo campionato d'eccellenza? Sarà un campionato molto bello, molto avvincente secondo me ci saranno altre squadre che si inseriranno e daranno fastidio perché tutti ci tengono a fare bella figura con queste realtà importanti del calcio abruzzese noi però abbiamo il nostro obiettivo, lo dobbiamo raggiungere a tutti i costi e ci stiamo preparando per quello e quindi non dobbiamo lasciare nulla al caso i calciatori sono consapevoli che venire a Chiedi non significa venire a fare un campionato, una stagione ma si viene solo per vincere quindi non bisogna nascondersi nel dichiarare questo tipo di obiettivo perché per me è scontato che stare a Chiedi significa vincere il campionato Ecco siamo in preparazione, ti senti di dire già qualcosa ai tifosi con cui sei molto legato a Chiedi? Ma i tifosi io li ho sempre rispettati, loro abbiamo un buon rapporto perché loro pure mi hanno sempre rispettato io non ho mai detto bugie e non ho mai preso in giro loro in particolare sono quello di due anni fa, noi faremo un grande campionato capisco la delusione che c'è stata l'anno scorso ma capisco che è anche importante il loro sostegno perché qui in realtà c'è un tifo veramente caldo e una esperienza, una maturità a livello di tifo che io in Abruzzo credo sia veramente al top e quindi mi aspetto semplicemente il loro supporto come hanno fatto del resto anche l'anno scorso in condizioni difficili quest'anno lo deve essere ancora di più Ecco, per chiudere, lo stadio, il problema stadio, cosa ne pensa mister Lucarelli vedendo anche la stagione scorsa? Lo so che per i tifosi è difficile stare lontano da casa ma io devo ragionare con quello che ho quindi se noi abbiamo un campo come questo ad Ortona, se avremo un campo come Ortona o non avremo un altro noi dobbiamo entrare per vincere quindi nessun tipo di condizionamento un po' il dispiacere per non stare a casa nostra ma spero che ci si torni perché comunque il Presidente e il Patrono stanno cercando di fare di tutto per tornarci spero che l'amministrazione comunale ci dia una mano ma nessun alibi, nessuna scusa comunque per la squadra perché noi dobbiamo giocare sempre in tutti i cambi per vincere